La realizzazione del terzo macrolotto Sibari-Rossetto Capospudico della setale 106 Onica è ormai una realtà. L'intervento, illustrato questa mattina a Sibari, prevede un investimento complessivo di circa 1 miliardo e 330 milioni di euro. Oggi possiamo dire che nel corso di questa stagione estiva inizia una importante opera nella nostra regione. Già i lavori preliminari, quelli della verifica di ordini bellici, dello sminamento eventuale, degli espropri, è già in atto. Quindi è un'opera che abbiamo portato a buon fine e che oggi Anas e il contraente generale ci illustreranno anche nel cronoprogramma dei lavori. Tempi di realizzazione e tratto Sibari-Crotone. Sono un cantiere complesso, quindi a parte che una parte deve essere ancora pubblicata la delibera Cipe, quindi non può iniziare. L'ipotesi è che si possa iniziare col cantiere entro fine anno e la durata è circa 4 anni e mezzo. Davanti ai cancelli del Museo di Sibari, i rappresentanti della rete Rasp, che parlano di sprechi e di incompatibilità ambientale. Ed è una contestazione soprattutto di ordine politico, perché noi siamo ben convinti che l'Alto Ionio abbia bisogno di una strada di collegamento, ma siamo convintissimi che abbia bisogno di una strada di collegamento fatta bene, perché come ci disse già precedentemente, in un incontro avuto a Trebisacce l'allora viceministro delle infrastrutture Nencini, non è che una strada non serva, ma le strade servono se vengono fatte bene. Avere uno spreco di 1 miliardo e 400 milioni per realizzare un terzo asse viario nella nostra zona è assolutamente vergognoso e scandoloso anche nei confronti degli abitanti da Rossano a scendere.